16 titoli, un cartellone d'eccezione, un omaggio a Domenico Modugno, l'opening act degli Avion Travel e una sfida ancora più importante, quella di fornire uno spazio polifunzionale in una città certamente non semplice, partendo dalla rinascita di un teatro. Al via la stagione del teatro Caffeina a Viterbo, tra grandi classici e contemporaneo. Negli studi di Ascaniuse la direttrice artistica Annalisa Canfora. È un polo culturale perché è un teatro ma è anche una libreria ed è un bistro, c'è uno spazio polifunzionale aperto 365 giorni all'anno dalle 8 di mattina alle 10 di sera. Questo è molto importante per capire il progetto più grande dentro il quale c'è la stagione. Il concerto degli Avion Travel il 26 ottobre dà il via a questo viaggio per poi aprire la stagione vera e propria. Il 17 novembre iniziamo con uno spettacolo con la regia di Monio Vadia, grandissimo maestro del teatro italiano, su Domenico Modugno interpretato da Mario Incudine. E poi la proposta è diversificata e articolata, sono 16 titoli, quindi sono tanti, da Vinicio Marchioni a Paolo Bonacelli, da Enrico Loverso che porterà le metamorfasi, è un grande progetto di contemporaneo con Silvia Gallerano e la merda, spettacolo storico del teatro di innovazione, Elena Cotugno con la sua media in strada. In realtà Ugo Pagliai e la Custeramani è un'importante opera di Bergman che ha debuttato quest'estate al Festival di Spoleto. Insomma la mia idea era quella di costruire una stagione trasversale che potesse raccontare il teatro di oggi, quindi non chiuso in un range teatrale ma proprio per fornire alla città Viterbo un'offerta quanto più diversificata possibile. Una sfida importante? È una sfida sì, rischiosa e anche un po' folle. Dobbiamo considerare che Viterbo è una città che non aveva un teatro da 12 anni, quindi noi stiamo proprio ricostruendo un humus, stiamo ricostruendo un pubblico. È stata una sfida importante per la Fondazione Caffeina perché il restauro è stato imponente, noi abbiamo smantellato il primo ordine di palchi trasformandoli in questo bistrò acquario che guarda il teatro con un effetto vetri poi oscuranti durante gli spettacoli, quindi anche economicamente un grande investimento della Fondazione. Noi siamo in totale controtendenza rispetto a quello che sta avvenendo in tutta Italia, nel senso che in Italia, come tu sai bene, i teatri chiudono e le librerie chiudono. Noi apriamo un teatro e libreria, quindi diciamo siamo completamente folli da un punto di vista economico, siamo dei pazzi. In realtà noi crediamo che questo sia il senso profondo di quello che oggi va fatto, cioè io dico sempre che ognuno di noi oggi ha la responsabilità di fare azione politica e quello che noi stiamo facendo è provare veramente a capire che cosa significa ricostruire delle comunità ormai disgregate e anche se sembra folle poi i risultati premiano. Quello che noi siamo riusciti a creare in un anno è impressionante. Noi oltre al teatro, diciamo oltre alla stagione di cui abbiamo parlato, noi facciamo corsi di formazione, corsi di teatro, c'è un'offerta estremamente articolata, conferenze, concerti, continuano le presentazioni dei libri. In realtà noi cerchiamo di costruire un modello di comunità che usa la cultura come spazio di aggregazione e quando fai questo capisci che c'è una grande richiesta.